Ciao amici Prepper e bentornati a un nuovo video. Vi ricordate di quando abbiamo fatto il video sulle cannuccine sigillate? Ok, oggi andiamo a vedere un concetto molto simile ma lo portiamo un po' più avanti. Allora, abbiamo parlato in uno degli scorsi video della differenza tra i sistemi da ripiego, quelli improvvisati, e invece le cose fatte un pochino meglio. Ok, dopo aver fatto il video sulle cannucce sigillate ho fatto un paio di prove e sono arrivato alla conclusione che questo sistema qui va bene fino a un certo punto, non è esattamente un sistema ottimale. Perché? Fondamentalmente per dei motivi molto semplici, allora innanzitutto la quantità di materiale che riusciamo a andare a mettere nelle cannuccine è molto poca, ovviamente per questioni di spazio e di sezione della cannuccia, la chiusura ogni tanto sinceramente non è così automatico che venga fatta bene. Cosa succede quando vogliamo portarci via qualcosa di un attimino un po' più ingombrante o comunque di più sostanzioso come quantità? Che o cominciamo a prendere delle cannucce molto più lunghe o cominciamo a impazzire a cercare delle cannucce che abbiano un diametro maggiore. Insomma, è un sistema che va bene però è un po' improvvisato e quindi arriva fino a un certo punto, ha i suoi limiti come tutto. Allora ho provato a cercare un modo per cercare di superare questi limitri e il sistema che ho trovato è quello di affidarsi a uno strumento come questo. È un sigilla sacchetti di quelli che vengono abitualmente utilizzati nelle rosticerie, tavole calde, comunque posti dove tendenzialmente si va poi a confezionare il cibo, comunque cercare di fare delle chiusure ermetiche non necessariamente sottovuoto. C'è anche la versione con il sottovuoto ma questo fa soltanto la chiusura. L'ho acquistato su Amazon per circa 20 euro, nulla di più, ve lo faccio rivedere. Vedete che comunque è un bello sberlone di roba, quindi sarà 50 cm di lunghezza la parte attiva su cui andiamo a fare la chiusura. Cosa e com'è composto? Allora abbiamo una superficie qua sotto che è fatta in materiale che resiste al caldo e che non si deforma e qua sopra, non so se riuscite a vedere, c'è la parte invece con la resistenza. Il funzionamento è banale, basta mettere il sacchetto di traverso sulla prima superficie, chiudere, aspettare, sentire il momento in cui il circuito stacca la corrente, basta, la sigillatura è fatta. Possiamo utilizzare questo strumento con i sacchetti del sottovuoto, i sacchetti del frigorifero per il gelo e tutta una altra serie di sacchetti normali, quindi abbiamo già a disposizione fin troppo materiale da utilizzare per fare questo tipo di chiusure. E per cosa le possiamo utilizzare? Vi faccio vedere soltanto un esempio fra tanti, allora, di come ad esempio ho fatto questa bustina di caffè solubile. Ok, ho venuto fuori qualche tempo fa sul forum un thread sulle monoporzioni, come se non può essere utile portarselo via. Ok, d'accordo, le monoporzioni di zucchero li troviamo in tutti i bar, quelli di olio si fa un po' più fatica a trovarli e invece quelli di caffè è praticamente difficile a meno che non si vada in qualche negozio un po' specializzato. O soprattutto comunque costerebbero molto di più, mentre invece a farseli da sé il costo è praticamente risolio. Un sacchettino di plastica del congelatore è quasi riciclato, è un quantitativo esiguo che può bastare per un paio di tazze e abbiamo fatto. Ma può essere utilizzato per un sacco di altre cose, ad esempio vogliamo mettere un cambio di biancheria nella Bob ed essere sicuro che comunque qualsiasi cosa succeda rimanga assolutamente asciutto? Conviene metterlo quindi all'interno di un sacchetto di plastica e si gireranno in questo modo qui. Lo stesso ovviamente vale per tutte le altre cose a cui vogliamo creare, questa specie di confezionamento fai da te. Quindi i vantaggi immediati sono una chiusura fatta bene, poi ogni sacchetto a seconda del tipo di plastica con cui è fatto può avere delle rese diverse, quindi fate un po' di esperimenti e valutate voi quale conviene utilizzare. Comunque così ci va, chiusura fatta bene, dimensioni che possiamo scegliere noi, questo per darvi un'idea viene da un sacchetto di quelli di grande dimensione, e quindi tagliandolo prima in verticale e poi in orizzontale c'è la possibilità di farsi delle bustine della dimensione che ci serve a seconda di quello che abbiamo bisogno. Oltre per queste cose potremo andare a utilizzare questa macchina anche normalmente per l'utilizzo che faremo in cucina, quindi abbiamo aperto un pacco di pasta e vogliamo richiuderlo magari prima delle vacanze per evitare che si formino le farfalline e via dicendo, tac, tutto questo strumento può venirci utile anche assolutamente in questo caso. Comunque, al di là di tutte queste iscrizioni, vi faccio vedere molto brevemente come può funzionare e come può venirci comodo in una dimostrazione pratica di quattro secondi. Comunque, al di là di tutto questo, Comunque, al di là di tutto questo, Comunque, al di là di tutto questo, Ancora due parole, ancora sul discorso del metodo di ripiego invece cosa è fatta bene. Mi sono reso conto che i metodi di ripiego vanno bene per gli hobbisti, per le cose sporadiche, per quando non hai un sistema migliore, per quando ti devi arrangiare in qualche maniera. In tutti questi casi un sistema di ripiego o un adattamento di qualche tipo va sempre bene. La cosa diventa diversa invece quando stiamo parlando di qualcosa che per noi è particolarmente importante e che dobbiamo avere particolare sicurezza del fatto che funzioni e che ci dia i risultati che ci aspettiamo, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Allora, su tutte queste cose qui, il fai da te estremo, magari lasciamo un attimo da parte, meglio investire qualche cosina di più per avere uno strumento fatto bene e che ci porti i risultati che vogliamo, piuttosto che magari andare a improvvisare ad avere dei risultati non proprio soddisfacenti o all'altezza delle nostre necessità. Detto questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ci vediamo alla prossima. Ciao!